Buongiorno Davido, il Parlamento UK ha fatto passare l'Online Safety Bill, OSB, che è un insieme di leggi, un pacchetto, che la EFF, l'Electronic Frontier Foundation, ha più volte commentato, ci ha più volte messo in guardia contro i contenuti di questa specifica legge, di questi provvedimenti, che in realtà vanno proprio a intaccare l'anonimità del web, la privacy dei cittadini sul web. Questo insieme di norme è fatto come intento per proteggere i bambini, che è un meme che si sente spessissimo nei Simpson, qualcuno pensi ai bambini, preso come pretesto che in realtà nasconde intenti ben diversi, come per esempio il controllo delle attività online dei cittadini, per esempio la necessità di un sistema di verifica dell'età fatto attraverso l'esibizione di un documento di identità, oppure ancora l'inclusione di una specie di backdoor nei servizi di messaggistica, che impedisca la totale criptazione, il totale anonimato delle chat, in modo che il governo possa controllare e leggerne il contenuto. Questo sempre, secondo gli intenti del Parlamento, per evitare che girino contenuti illegali, violenti, pedopornografici, e che i bambini appunto non possano accedere e vedere, fruire di tali contenuti. Naturalmente ci sono almeno due problemi, almeno, ma ce ne sarebbero tanti altri. Il primo è che chi è che si mette d'accordo su che cosa sono i contenuti adatti o non adatti ai bambini? Perché guardate che sembra un tema molto semplice, no? Certo, la pornografia, la violenza, ma però non è bianco o nero, ci sono vari livelli. Anche i film e i videogiochi, quando ottengono i bollini con l'età consentita o consigliata, ci sono dei gruppi, delle commissioni che si riuniscono, valutano, giudicano, però tutte queste proposte hanno un carattere personale, sono dettate dalla propria sensibilità. Non è condiviso da tutta la cittadinanza il concetto di adatto o non adatto a un bambino. Per me è una cosa, per te è un'altra. Ci sono tante sfumature nel mezzo, quindi è difficile stabilire un criterio universale per cui un contenuto sia adatto o meno a un minore o a un bambino. E questo è un problema. Un altro problema è la famosa esibizione dei documenti online per verificare la proprietà, cosa che parte della cittadinanza di qualunque Stato non può fare, perché non tutti hanno documenti di identità. Pensate solamente ai migranti, ai richiedenti asilo, quelli che sono legalmente sul territorio di un paese, che non hanno però documenti. Non hanno né i documenti del proprio paese, né tantomeno quelli rilasciati dal nuovo, dal paese in cui sono entrati. E questi potrebbero non poter accedere a contenuti online, perché non hanno modo di verificare la propria età. E questo li taglierebbe fuori da internet, e questo è molto grave. Oltre al fatto che appunto mi sembra che l'idea di andare a spiare ad ogni costo tutte le conversazioni private tra i cittadini vada a minare un diritto fondamentale, che è quello appunto di avere conversazioni private. Anche se l'intento fosse di impedire la circolazione di materiale illegale, la soluzione non può essere quello di impedire a chiunque di avere conversazioni private, di spiare qualunque movimento e qualunque messaggio scambiato tra i cittadini. Perché si potrebbe arrivare da qua allora al paradosso di mettere il famoso grande fratello in tutte le case, in tutte le stanze, che spia ogni conversazione, ogni passaggio, ogni movimento di un cittadino, perché ognuna di queste azioni potrebbe contenere o portare a un'illegalità. Ecco, cosa blocca a questo punto arrivare a quel livello lì? Perché i messaggi scambiati in chat sì e quelli scambiati di persona no? Che cosa li differenzia? Quanto ci vuole ad arrivare a quel punto? E questa è un po' la preoccupazione che abbiamo, che abbiamo tutti, che l'Electronic Frontier Foundation continua a cercare di portare all'attenzione, e credo che dobbiamo iniziare a davvero muoverci, perché leggi di questo tipo sono state passate in UK, sono state fatte negli Stati Uniti, potrebbero arrivare presto quindi in altri paesi europei, da noi, in Italia. Quindi iniziamo ad attivarci, iniziamo ad informarci, perché insomma sono questioni che credo siano importanti. Vabbè, vi ho un po' preoccupato in questa introduzione? Dai, non volevo essere così tanto severo, ma insomma sono questioni importanti. Dai, andiamo alle news di oggi, prometto che sarò molto più leggero e delicato. Allora, ieri è stato il giorno del lancio di Platformatic versione 1, o 1.0.0 tecnicamente, la prima versione stable e production ready del progetto di Matteo Collina, che è già creatore di Fastify, di Pino, di Mercurius, è un membro del Node.js Technical Steering Committee, Insomma, se siete parte del mondo JavaScript, del mondo Node, dovreste conoscerlo abbastanza bene. E Platformatic è un progetto open source innanzitutto, ma è anche un'azienda, un'azienda appunto fondata, cofondata dallo stesso Matteo Collina, che offre servizi cloud basati su questo stesso software. E prima di illustrarvi le novità della versione 1, direi che vi faccio un po' una sintesi di che cos'è Platformatic, almeno per come l'ho capito io, eh. Allora, Platformatic è un back-end JavaScript basato su Fastify e costruito per funzionare con Node.js, ed è composto da una command line, una CLI, insomma, ovviamente, con cui fare il setup dei progetti, lo start dei servizi, il deploy, eccetera. Poi un HTTP server, che si chiama Composer, che aggrega gli endpoint dei servizi già presenti in un'applicazione e fornisce un unico punto di accesso in una API che poi è configurabile facilmente con un file JSON. Poi c'è PlatformaticDB, che crea automaticamente un API REST o GraphQL, un API REST con un OpenAPI, ecco, oppure GraphQL, su un database con le operazioni CRUD configurate automaticamente, peraltro in grado anche di creare il database proprio a partire da uno schema SQL, tutto questo senza scrivere praticamente alcuna riga di codice, da una struttura del database fornito fino all'API per le azioni CRUD, peraltro tutto perfettamente integrato in VS Code, con l'autocomplete, eccetera, eccetera. E infine Platformatic Runtime, che è un processo che governa le altre istanze, come appunto ServiceDB e Composer, e prende gli input dalla CLI e può essere anche gestito tramite la sua API. Ora, queste sono le caratteristiche di base di Platformatic Open Source, quindi di tutto il progetto Platformatic Open Source. Quindi, se voi installate da NPM Platformatic, potete trovare queste feature. Ovviamente non ne ho menzionate altre più piccoline, ma spero che si sia capito qual è il problema, il bisogno che va a indirizzare. Quindi è un backend HTTP per Node.js che espone API REST o GraphQL e governa microservizi o database con setup automagici. Vi dicevo però che Platformatic è anche un'azienda e i servizi che questa azienda offre sono cloud-based e sono chiamati Platformatic Cloud. Potete quindi deployare i vostri backend Platformatic sul servizio cloud, con tra l'altro un free tier piuttosto permissivo per le funzioni base e poi con i piani successivi accedere anche a funzionalità Enterprise del software stesso. E proprio con la versione 1 sono stati annunciati due servizi, parte dell'offerta Enterprise. Ve li racconto brevemente. Il primo è Breaking Change Detector che, se ho capito bene, utilizza OpenTelemetry per mappare i microservizi collegati a Platformatic e quando c'è il deploy di una nuova versione cerca di capire se i cambiamenti apportati rompono uno di questi microservizi perché magari è cambiata un API. E il secondo è Stackables che offre dei template preconfigurati con tutte le configurazioni necessarie per creare un nuovo servizio in un ecosistema già esistente. Quindi elimina tutta quella parte di setup manuale, di configurazione dei deploy, dei secret, eccetera, eccetera, che dovrebbe quindi risultare in un risparmio di tempo. Se hai un'architettura a microservizi che prevede la creazione più o meno frequente di servizi di questo tipo, ecco, un servizio come questo ti va a indirizzare proprio la velocità di creazione di un nuovo servizio. Quindi insomma, questa è la release versione 1.0.0 di Platformatic così adesso avete anche un'idea magari un po' vaga, però forse adesso avete messo un altro puntino sulla mappa dei progetti dell'ecosistema Node da tenere d'occhio. Per stare più sul pezzo con gli annunci delle nuove feature vi invito a seguire Matteo Collina, peraltro è spesso ospite in podcast e conferenze varie, quindi l'occasione per sentirlo non vi mancherà. Allora, per chiudere naturalmente aggiornamenti sulla questione Unity che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti, c'è stata l'annunciata live chat con Mark Whitten di Unity dove ha affrontato alcune delle domande più piccanti della community. Ha ovviamente detto, anzi ha ribadito, che gli dispiace, ripeto, probabilmente queste cose le dovrebbe dire il siori citiello, ma va bene così. Alla domanda perché, perché questi cambiamenti, ha risposto che la motivazione è creare un business sostenibile, quindi c'è da pensare che fino ad oggi Unity non fosse sostenibile evidentemente. Ha anche detto che l'idea del paper install era ritenuta equa sia per Unity che per i sviluppatori dei giochi, ha comunque riconosciuto che pianificare in questo modo la revenue è piuttosto complicato e ha ribadito che l'idea era di spartire il ricavato con i giochi di maggior successo, non con i progetti più piccoli. La famosa metrica engagement non è stata chiarita, il dettaglio fornito da Whitten è stato uso legittimo del tuo software su un particolare canale di distribuzione e solo per la prima volta, quindi escludendo copie pirata e installazioni multiple. Non ha in realtà chiarito quale sia tecnicamente il meccanismo con cui questo viene calcolato, ma insomma. Ha parlato dei Terms of Service, ha detto che non sapeva che la compagnia li avesse rimossi da GitHub, che ora comunque sono stati ripristinati e saranno continuamente aggiornati. E ha ribadito inoltre che chi realizza un gioco con una specifica versione di Unity rimane ancorato ai TOS, ai TOS, di quella versione. E in generale mi pare che riconquistare la fiducia sia un processo piuttosto difficile, piuttosto lungo. Io credo che Whitten sia sinceramente dispiaciuto di come sono andate le cose, poi il tempo ci dirà se questo è stato un momento decisivo per le sorti di Unity o se è soltanto un piccolo passo falso da cui si riprenderanno. Nel frattempo però segnalo anche che il primo Unity User Group ufficiale al mondo, così si è definito il Boston Unity Group o BUG, ha annunciato la sua dissoluzione. Ecco, la sua dissoluzione ufficiale dopo 13 anni, perché, dice ufficialmente in questo comunicato, la fiducia che avevano nella compagnia è completamente svanita. Ovviamente. Il gruppo era un gruppo importante, aveva migliaia di membri e ha realizzato molti tutorial e molti workshop, tra l'altro si trovano anche su YouTube, e proprio oggi ci sarà l'ultimo meeting ufficiale su Zoom, prima della chiusura. Il canale YouTube di BUG rimarrà attivo per mantenere tutto lo storico, tutti i tutorial che avevano creato, tutti i contenuti che avevano creato, però il gruppo non esisterà più e in questa open letter, insomma, si invitano tutti i membri a entrare nel Boston Game Dev Meetup, che è un gruppo locale di sviluppatori di videogiochi vari, con altre piattaforme, non solo Unity ovviamente, ma anche, per esempio, Unreal e Godot. E ho finito anche oggi, grazie per avermi seguito, due appuntamenti per domani e dopodomani, quindi non avremo il buongiornissimo, ma se sarete parte di questi eventi, mi vedrete lo stesso, perché domani c'è il Drupalet Localhost su YouTube, dovete registrarvi su Gruspe, ma comunque è un evento gratuito, non dovete pagare niente, solo registrarvi da Gruspe, poi avrete il link per seguire la diretta, è un evento ovviamente basato su Drupal, che dura l'intera mattinata di domani, insomma, però ci sono speaker interessanti, quindi se vi piace l'ambiente Drupal, l'ambiente PHP, insomma, vi consiglierei di seguirlo, e invece venerdì c'è lo UX Day a Faenza, io sarò lì non in vesta ufficiale, cioè sono lì a guardare, semplicemente perché c'è una mia cara collega, che si chiama Valeria, una collega di Sparfabrik, che tiene un talk sul palco, appunto, sul tema della UX, in realtà della sostenibilità, ed è molto interessante, quindi se qualcuno di voi aveva già preso i biglietti per Faenza, per andare allo UX Day, sappiate che mi trovate lì, in mezzo al pubblico, a fare il tifo e a lanciare naturalmente le rose sul palco. E questo era tutto, grazie di nuovo per avermi seguito, e noi ci vediamo quindi la prossima settimana. Ciao!